Salve gente, allora abbiamo un Murigno in netta difficoltà anche a giustificare certe prestazioni e una Lazio che invece potrebbe rilanciarsi questo sabato con il Milan. Ne parliamo velocemente in questo video, intanto tu che lo stai vedendo questo video se ancora non hai si fatto iscriviti al canale. Clicca sulla campanellina per rimanere aggiornato su tutti i contenuti, lascia un like sempre e comunque a tutti i video che andrai a vedere di questo canale partendo da questo, quindi fermati un secondo, lascia il like o comunque cerca di ricordartelo prima di abbandonare il video. Nostra famosa è Tantase dove ieri sera un pochettino mi sono intrattenuto tra amici razziali, sfottò sulla Roma, però vi dico occhio, il che ogni volta che si fanno gli sfottò ai cugini nelle condizioni in cui stiamo noi non porta mai benissimo e più un paio di amici romanisti che incominciano veramente a perdere fiducia in questo allenatore. Allora, perché perdono fiducia? Perché ragazzi, la salvezza di Murigno sono le due finali europee che la Roma ha conquistato, io ho cercato di spiegare a suo tempo la conference, il modo in cui la Roma era arrivata in quella finale e poi ha vinto, un percorso tutt'altro che convincente, tante partite risolte veramente con una mischia in aria che è proprio ormai da diverso tempo la soluzione per eccellenza del gioco di Murigno, tant'è che Lukaku pensavo che in questo potesse essere molto utile e probabilmente lo sarà. Cioè, Murigno quando è in difficoltà, quando non riesce a chiudere la partita, soprattutto quando gli avversari non riescono a chiudere la partita, perché quell'anno di conference molte volte gli avversari sono stati superiori, hanno giocato meglio della Roma, poi si butta in cacciara, tutti avanti, se è possibile anche mettere qualche attaccante in più, è una spizzata, qualcosa che succede in aria, la Roma bravissima a sfruttare i calci d'angolo, ad esempio, oppure punizioni, insomma, palle ferme, ed è riuscita piano piano a conquistare quel titolo, ripeto che poi alla fine è stato conquistato e andava celebrato. L'altro anno un'altra finale, secondo me per assurdo meritava quasi più l'Europa League per come ha fatto il suo percorso, che non la conference, e su questo ovviamente il tifoso romanista dà fiducia all'allenatore, però tappandosi spesso gli occhi e anche le orecchie di fronte a un gioco che non c'è, cioè dal primo anno che Murigno ha dimostrato di non essere più in grado di gestire a lungo termine, nel senso in un percorso lungo come il campionato, di saper gestire la squadra e i momenti. Cosa diversa, invece, quando è concentrato e mette tutte le sue energie su un percorso molto più breve, che fa molto più curriculum, ovvero la conquista di un trofeo come quelli europei. Diciamo, il suo status ormai è quello, uno che punta molto a caricare sul doppio incontro, sulla sfida singola, rispetto a un cammino più lungo, più locurante, dove lui non riesce, partita per partita, a mantenere un livello alto della sua squadra, anche tramite un gioco soprattutto. E questo lo porta, ripeto, inevitabilmente a non far bene in campionato. Ieri tantissimi commenti, ripeto, tanti che cominciano a perdere un po' la pazienza di fronte a quelli che sono dei risultati che mancano, perché ogni anno si dava sempre una scusa. Quest'anno, appena l'arrivo di Lukaku, ha portato un entusiasmo anche eccessivo a dire che la Roma è da scudetto. La Roma è da scudetto, resta il fatto che la Roma è molto più vicina, in questo momento alla zona retrocessione che non allo scudetto. Come per la Lazio, lo dico anche per la Roma, ragazzi, secondo me la classifica va vista e va, diciamo, un pochettino va tirata alla prima linea a 10 giornate. Io, personalmente, per la Lazio, se tu che stai seguendo, se non sei della Lazio e magari non segui il canale, io ho detto che per la Lazio aspetterò la decima giornata. Alla fine, la decima giornata, dopo 10 giornate, penso che sia il momento di poter tirare una piccola somma, una prima somma. Per la Roma uguale, è da poco che Lukaku sia aggregato al gruppo, è un paio di partite, il duo di Bala-Lukaku, insomma, ha iniziato da poco. Secondo me la Roma, come la Lazio, ha i giocatori. Tutto però dipende come vengono utilizzati. Ovviamente già la prossima giornata di campionato potrebbe ribaltare le cose, perché comunque la Lazio, visto che si parla di... Siamo tornati un po' agli anni 80, anni 90, ovvero dove si giocava più a chi arriva sopra e a chi arriva sotto un campionato. Siamo arrivati... è triste, no? Sia per Roma che per Lazio. Il traguardo in questo momento è chi va su e chi va giù. Per quello dico anche agli amici, fratelli razziali, è inutile che prendiamo per il culo la Roma, perché, ripeto, non è che noi stiamo tantissimo meglio, anche in classifica. Insomma, anche noi dobbiamo consolidare e dimostrare di aver ripreso a camminare. Non basta un mezzo tempo contro il Torino, è un buon risultato, è buoni tre punti. Con il Milan bisogna dimostrare. E quindi potrebbe già succedere che con il Milan, se noi non vinciamo e la Roma vince col Frosinone, è quello lì che già i ruoli si ribaltano. Però, ripeto, triste il fatto che si sta a guardare chi arriva su e chi arriva giù. Io, personalmente, non lo guardo, perché l'andrò a guardare dove siamo messi, soprattutto la Lazio, indipendentemente da dove sarà la Roma, alla decima giornata, e vedremo. Però c'è da fare anche i complimenti a un Gilardino che già con la Lazio, dopo la prima giornata, dove il Genoa ovviamente giocò malissimo, e ha cercato una formula. Io ho sempre detto, andate a vedere anche nella classifica, diciamo, mia finale, che secondo me potrebbe essere la classifica finale di questa stagione, il Genoa, vi ho sempre detto, per me è una squadra interessante, che ha fatto degli acquisti intelligenti, uno su tutti, secondo me, veramente bruciando la concorrenza, che poi in realtà non c'è stata. Quindi è andato molto facilmente su Retechi, che lo ritengo un attaccante moderno, giovane, dal giusto fisico, dalla giusta capacità. Ieri il gol in aria, stop e tiro, cioè dimostra quanto questo ragazzo sia capace. Ripeto, io non boccio Tati assolutamente, perché anche Tati, quei pochi minuti che gli vengono concessi, ha dimostrato che ha dei colpi interessanti, volendo, anche lui un giocatore moderno, fisicamente diverso, tatticamente e tecnicamente è più per Sarri probabilmente, però Retechi ci avrebbe dato delle soluzioni interessanti, secondo me, a un prezzo anche più contenuto. E Girardino è stato bravissimo, ripeto, a rimodellare, a rivedere, in base ai giocatori che ha, e grazie alla sua esperienza, io dico sempre, secondo me allenatori che vengono da pochi anni fa, stavano in campo, quindi con una versione, una visione del calcio molto più recente, molto più moderna, riescono, secondo me, in base alla loro esperienza sul campo, in base agli allenatori che hanno avuto, il giocatore allenatore, non tutti ovviamente, però ci sono giocatori che riescono a portare la loro esperienza e a ritrasmetterla alla propria squadra. Ecco, Girardino mi sembra uno di questi, uno di quelli che non è fissato con uno schema, perché ha giocato con tanti schemi diversi, tatticamente ha molta conoscenza, ripeto, personale sul campo, e riesce a capire le situazioni di giocatori, di spogliatoio, e riesce a trasmettere evidentemente qualcosa. Ha sistemato in queste partite il Genoa, ieri il Genoa, certo, non è che giocherà sempre così il Genoa, ma ieri il Genoa, diciamo, è riuscito a gestire le situazioni e a esprimere anche un ottimo calcio, secondo me, e ripeto, ha delle soluzioni interessanti all'interno della Rosa che la porta ad essere, secondo me, e l'avevo già detto, appunto in quella classifica dove il Genoa l'avevo messo abbastanza alto, nonostante una neopromossa, perché lo ritenevo appunto una squadra che poteva dare fastidio e far vedere insomma qualcosa di inaspettato. E così è stato, soprattutto per Lazio e Roma, visto che le abbastonate tutte e due. Per quanto riguarda la Lazio, in conclusione ragazzi, io penso che con il Milan, ma non solo con il Milan, io penso che adesso dal 30 settembre al 30 ottobre, c'è praticamente un mese, quattro partite, dove se le vinci, perché devi vincerle, allora finiremo appunto dal 30 ottobre alla decima giornata con una classifica diversa, una situazione diversa. È chiaro che tu hai quattro finali, qui è veramente, cioè bisogna essere tutti concentrati a vincere queste partite. In mezzo ci sarà purtroppo la Champions, però bisogna essere consapevoli che la risalita veloce avverrà solo con queste partite, perché si va a incontrare Milan, l'Atalanta, la Fiorentina e ci metto in mezzo anche un Sassuolo che oggi come oggi è una squadra rivale per quel quarto posto. Quindi quattro squadre difficili da affrontare, tutte e quattro ti stanno sopra, sono quattro sconti diretti, vincerli vuol dire prendere punti a tutte e quattro e risalire la china velocemente. Quindi per noi fondamentale questo mese, sia in campionato che in Champions. Io ci credo, ripeto, per chi ho visto giocatori, già l'ho detto dal mercato, per me la Lazio ha fatto degli acquisti interessanti, intelligenti, però bisogna anche saperli usare. E soprattutto, lì davanti, mi spiace ridirlo, purtroppo lo dissi quando andò via Milinkovic, Milinkovic era uno che dava tanti palloni e sapeva leggere i movimenti di Immobile. Immobile oggi è un po' come il nazionale, ovvero ha solo Luiz Alberto che ogni tanto riesce a dargli un pallone, ma Immobile, senza Milinkovic, è un immobile che vale un quarto. Mi spiace, perché comunque è abituato, dopo tanti anni di Milinkovic, a ricevere determinati palloni che oggi non riceve più, ne riceve molti, molti di meno e purtroppo quelli che riceve non riesce a gestirli. Tati, invece, secondo me, non è abituato, perché non ha mai giocato con Milinkovic, quindi non si aspetta determinati passaggi. Per Tati, qualsiasi passaggio può essere buono e lo gestisce in un modo totalmente diverso, quindi per me un minutaggio mixato, ripeto, Immobile può giocare, sì, assolutamente, anche da titolare ci mancherebbe è il capitano, ma dopo un'ora, almeno che non stia facendo il fenomeno e purtroppo il fenomeno è da un po' che non lo vedo che riesce a farlo e non mi dite sì, però gioca per la squadra, no, a noi ci serve un attaccante, non ci serve uno che gioca per la squadra, a noi ci serve arriva la palla, uno che prende e sa cosa fare in aria in quelle poche occasioni che gli arriva il pallone e io penso che 60 minuti Immobile e 30 per il momento attati e poi magari se si andranno a ribaltare le cose non lo so, però diamo un po' più di spazio a questo giocatore perché l'altro giorno mi è sembrato uno che aveva una voglia pazzesca di dimostrare e di far bene, quindi sfruttiamo questa grinta per andare ad affrontare un Milan che sa giocare nonostante tanti cambi sa giocare e sa far male quindi sa far male in senso all'avversario non è che sa far male in campo sa far male all'avversario perché ha tanti giocatori pericolosi e Pioli ha trovato subito una formula per a parte il 5-1 con l'Inter ma l'Inter secondo me è più forte del Milan ha trovato subito una formula per per giocare bene e potersela insomma giocare in campionato anche a livello di scudetto ragazzi questo è quanto la maglietta che indosso ormai è diventata una delle mie preferite con gli anime maglietta del Giappone trovate il sito e tante chicche nel sito delle magliette giù nei commenti andatevi a dare un'occhiata e ci vediamo presto con un prossimo video olivi dolci grazie a tutti